Buongiorno, chi sei? Mi chiamo Dario, ho 25 anni. E sto facendo una figurella. La sto per fare. Aspetta, facciamo vedere prima chi è perché sennò altri enti. Vabbè, questo è un personaggio molto famoso della storia di Napoli e della cinematografia. Antonio De Corzzi. Detto in arte, Totò. E chi sono in arte? Beh, lui è sicuramente Paolo Villaggi. Il famosissimo Rangioneer Fantozzi. Il coprimo. Eh? E chi? Come chi è? Guarda, qualche... Mi ricordo qualche... Dagli occhi... Oddio, forse l'ho visto a che parte. Eh, eh, l'hai visto, Comodo, non l'hai visto. Non ne ho proprio idea. Eh, vabbè. Mettilo di qua. Ha fallito un miseramento. È un tipo di creatura. Questo lo conosci benissimo. Sì. Sì, però forse era troppo piccolo. Questo lo riesco a riconoscere. Ma lo conosci benissimo. Tu lo conosci? L'hai mai visto? Un aiuto. Dal pubblico. Sì, magari un po' più grande l'avrei riconosciuto, forse. Eh. Ah, era lui. Allora, questo mi puoi dire sia il nome del personaggio che il nome dell'attore, se te lo ricordi. Eh, sì. Vabbè, Mr. Bean però si tratta di... E già te lo do buono come Mr. Bean. Ok. Però ha un nome proprio Hopkins. Eh, no. Roman Atkinson. Eh, Atkinson. Mettilo di là. Roman Atkinson. Eh? No. Purtroppo no. Ecco la prossima. Marilyn Monroe. Ok. Come si fa allora? Allora riconosci. Madre Teresa di Calcutta. Cazzo. Eh. Azzardo. Azzardi? Azzardo. Perché forse mi sbaglio. Armstrong? Armstrong. Bravissimo. Che non ero sicuro al 100%. Ah, questo lo conosco proprio qui. Ma mi diventi quel nome. Mi è venuto a mancare anche da un molto tempo fa. Il nome? Dio. Ho fatto una marea di film questo. Tienilo qua. Mettitelo da parte, magari dopo ti ricordi. Troppo. No, no, mi sta venendo bene. Mettitelo da parte, così magari poi te lo ricordi. Allora, questo mi puoi dire o il personaggio, già te lo do buono. Oppure, se mi dici proprio il nome dell'attore. Il nome dell'attore non lo so. Lo so che è Spock. Quanto è bene Spock. Ok. Il nome dell'attore è Leonardo Di Moi. Di Moi ragione. Leonardo. Dario. Che si assomiglia? Questa la devi sapere, eh? Cioè, questa poi qua la devi sapere. L'ho vista qualche volta. Deve sapere che è questa. Purtroppo non la so. No. Purtroppo non la so. Non la sapere. E chi è? Margherita Hack. Ah, è bello. Una simbaticona, tra l'altro. Guarda che bellissima. E questo è Benigni, Roberto Benigni. Che, tra l'altro, non c'è nessunissima somiglianza tra i due. Mmm. Bello vuoi bucchinir la sigaretta a mok. Va bene come risposta a Bello vuoi bucchinir la sigaretta a mok. Allora io. Allora mettilo qua. Cacchio. Cacchio, quella scelta da mok. Eh? Quella di chiedi, sì. Aspetta questa è una stilista. Anche la stilista, sì. Non è Versace, no? No. È asiatica. È asiatichissima. Ah, questa è la... No. Chi? No. Ma perché se non era moglie di... Cioè, di quello? Quello chi? John Lennon. Eh. Come si chiama? Mi... 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 No, io... Yoko. 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 Dalla posa, eh. Lo riconosci per forza. Napoleone Bonaparte. Ok. Sempre un cortesco. E lui è... Albert Einstein. Una foto... È un'icona questa foto, non è? Eh. Ho visto una marea di poste, ma non mi ricordo il nome. Odrieppo. Mi dispiace questa foto. E lui, ovviamente... Questo mi puoi dire due nomi, mi puoi dire tante cose. Freddi Mercury. Freddi Mercury. Non lo sai il nome vero. C'è una cosa sulla puntata prima. Il nome vero di Freddi Mercury non lo sai? No. Mi sfugge adesso. Mamma. Come si chiamava? Fredrik Bulsara. Mh. Nato in Tanzania. Valgono anche l'estate in nessun giorno. Valgono anche l'estate. Questa è una faccia proprio... Eh. Sì, vabbè, però... Vuoi dire Giulio Cesare. Però, così. Esatto. Va dove è intubito. Proprio da anche se non vediamo. Questo è un politico italiano. Eh... Mi sa che è Rom... Prodi? Romano Prodi? No. 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 No, ma... No. Ehi. Il combo maledetto, dai. Eh... No, io da noi. Mi cacciava il Pino. No. Oddio. Ma chi si è ricordato? Oddio. Ma tu mi vai a mettere le falce. Ma questo è... Cioè, questo... Questo stava nella Costituente quando è stata fatta la Costituzione Italiana. Eh... È una... È una... Cioè, una persona non famosa. È un proprio... Senti, già mi sto mettendo il ridicolo. Ora lo stai anche calcando. Ok, va bene. Grazie. Sì, sono ingiarato. Va bene. Grazie. Giovanni Paolo II. Ok. Ehm... Ma no, mi sta tenendo... C'ho sulla puntata lì proprio questo. Ho fatto una mera di canzoni. Ehm... Niente? Non mi dice niente. Veramente? No. Mamma mia. Forse l'ho visto da qualche parte. Eh, sicuramente. Ma... 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 Qua... Questo pepe ti assomiglia proprio tanto. Grazie. Devo fare il terrorista. Saddam. No! Eh, Saddam cosa? La... Bin Laden, scusi. Bin Laden. Eh, beh... Stiamo all'altro. Stiamo all'altro. Questo è Saddam. Questa è la Saddam. Quante tirate? Figurte. Eh, questo è... Questo pure lo sai. Ti hanno vivere in mente. Mettono da parte. La forse dopo. Eh. No, questo non ti assomiglia per niente. Meno, guarda. Questo è difficilissimo, eh. Questo è proprio difficile. Ha già detto la verità. Questo è proprio difficile. Questo... 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 Cioè io questo lo sapevo. Qua... La faccia che teneva. Ma non so... Bravo. Questo è proprio difficilissimo qua. Molto impeccato. Molto impeccato. I cazzi. Masso. Però... Me lo ricordo che una volta ho visto una foto sul libro. Questa età più o meno ce l'avevo. Sì. 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 L'abbiamo studiato mille anni di volte. Questo è... Sì. L'abbiamo studiato mille anni di volte. Che mestiere fa questo? Genetica. No. No. Nell'evoluzionismo. Ci assomiglia. Ci assomiglia. Allora è Karl Marx. È Karl Marx. Ci assomiglia. È bravo. Ci assomiglia. Dette 3000 cose. Però è vero. Questa barba, questo capello. E... Ma no. Questo è... Assomiglia. Il presidente degli Stati Uniti, George W. Bush. Junior o senior? Junior. Esatto. Che padre è un po' così. Wow. L'ho visto. Eh... Ma... Non mi ricordo il nome. No. Bellarino. Eh... Questo è un medico. Eh... Questo pure l'ho visto sempre nei libri. Ma non mi viene. Chi si dà un ricordo? Si ci pensa, c'è un ricordo, Dario. No. Mi viene. Mi dispiace. Froi. Anche questo è un medico. No. Allora, io già... È stato difficile. Eh... Sì, ma... Questo è morto molti anni prima... Eh... Sicuramente. ...che inventassero... ...le foto. Ecco... Eh... Lei se le ha sapendo, Dario. Ma... Le sapendo. C'è anche scritto, tra l'altro. Ma... 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 è una cosa che non... E... Febio... Qua... Qua è abbandaggiata Ida. Ehm... 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 Non è quello, ma quell'otto. È un Venom. Ehm... Qui sono due contemporanei. Eh... Più o meno, sì. Ehm... Ehm... C'è i capelli come me. C'è i capelli. Ehm... C'è i capelli. C'è i capelli? Ehm... Ehm... C'è i capelli. Ehm... C'è i capelli. Ehm... Chi è? Ma come? Ehm... 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 Ma non era piccolo, Giulio? Quando è morto? Nel 94. 95-94. Te ne manca un anno, te ne... Ma perché di anni sei lì? 93. Veramente! Vabbè! Ehm... Ehm... E' Lucio Battisti. Chi è? Lucio Battisti. Ah, è vero. Guardi... Ti giuro, se... Il capello se lo vedevo meglio tutto quando forse te lo riconoscevo pure. Che mi ricordo dei capelli molto... E' chissi l'inventore di Facebook. Ehm... Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Faccio di minchia. Ehm... Faccio di cazzo, sì. Sì. Questo è Gheddafi. Questo è Gheddafi, sì. C'è chi lo rimpiange ancora. Ehm... Aspetta, questo è... Cosola. Quello che è andato per mandare l'assassinato. Ehm... John Fitzgerald Kennedy. Ehm... Ehm... Lady Diana. Ah, ok. Ehm... 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 Mina. Mina. Però il nome è vero, non so... Non nemmeno io, figurato. Ehm... Questo è il coso... Ma... Cosiamo... Ehm... Si lo so, però... Rambo... Però interpretato da... Silvestre Stannotti. Ok. Ok, dovevi iniziò a parlare lui la zecca. Ehm... 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 No, non è Rubin. Hurricane Carter. Ehm... 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 Due nomi, c'ha. Ti stai aiutando. Due nomi. Uno prima di convertirsi e l'altro dopo che si è convertito. Sì. Non viene proprio. Ti spiace? Mohamed Ali. Ah, lì? Ma dove è? Muah! Mohamed Ali. Eh... Sì... Ehm... 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 L'ho visto comunque sempre nelle foto dei libri, di storie, sui sociali. Ehm... Ehm... Non è vero, non era brutta. Non è vero, non era brutta. Questi non... Questi muoiono difficilmente. Sono immortali. Non lo so. Non lo riconosco. Eh? Buona natura. Ehm... 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 E non l'ho visto. Ehm... Ehm... Dustin Hoffman. Dustin. Ehm... 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 Carlo... 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 Pedersoli. Ehm... Sai chi è quello? No. Fallo vedere di nuovo. Carlo Pedersoli. Qualcosa. E Bud Spencer. Seriamente, ma tu... Questo mi mangio le mani. Questo ti mangio le mani, Pedro. E questo è Bruce Lee. Ok. Wow! Ehm... Non mi dice niente. Ehm... Incredibile guarda. Sempre fanno stupato eh. Ehm... Ehm... Sai chi è questo? No. Charlie Chaplin. Ma l'ho detto prima. Ehm... 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 Che cosa? Bob Marley. Cos... Cos... Ma dobbiamo andare più veloce, voglio. Eh... Ehm... E lo so, c'hai ragione. Ok. Allora, da dove abbiamo andato più veloce, non mi viene. Ok. Bob Dylan. Bob Dylan. Ok. John Lennon. Chissà, non sai se io sai. Si... Si, lo conosco. Ehm... Clint Eastwood. Vabbè... Vabbè... Almeno... Affredete i film con il nonno. Eh... Lo conosco, ma non mi viene il nome. Non mi viene il nome. Alberto Solti. Eh... Solti. E questo è... Dio Benny? Dio Benny? Vabbè... Capitano Uncino, ma l'attore... Forse è morto. Non è morto. Sta meglio emettere Mr. Zinn. Non era morto. Ma qualora? Ah, era morto quell'altro. Ah, si. Si. Però... Questo già l'hai visto. Questi due hanno fatto un film insieme. Peter Pan. Si. E questo, comunque, ancora mi viene in mente il nome. C'è la miseria. E comunque no. Non vedo il nome. Eh... Tre quarti. Dustin Hoffman. Sembis. Grazie. È normale. Non è morto. Eh... Yeah. Altro famosissimo. Studio in manovaga. Allora comincio a spegnere. Edoardo De Filippo. Eh... Edoardo De Filippo. Eh... Ma quanti poter ci si domina. Però mi scordi il nome. Non dimentico. Tenga la mia cuore merda. Questo non ci vede. Eh... Eh... Non ci vedeva. Un po' morto. Ah... Non va bene. Via. Richards. Ma io... Allora li sono tutti... Ma è possibile. Si domina ma... Non è possibile. Ed è possibile. Hai preso. Ti ho preso. Ti ho preso. Il soggetto più sbagliato a fare questo gioco. Via. Luciano Pavarotti. Eh... Pavarotti. Magari sembra che mi infracco te lo dicevi. Abituato a vederlo così. No. Pavarotti era famoso per le camicia hawaiane. Ti so direi che è ebreo. Però mi scordo sempre il nome. Forse sì. Forse sì. Ebreo. Ma mi scordo sempre il nome. Legista. Attore. Udiallo. Chi so sai. Mi scordo sempre il nome. Silvia Perusconi. Detto faccia di plastica. Bunga Bunga. Chi più ne ha più ne mette. E questo è Kennedy? No. Bill... Bill qualcosa. Bill... Bill... Lo scopatore folle. Eh... Din dong. Va bene. Din dong. Tong. Cazzo mi viene? Tong. 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 Clinton. Ahah. Tong. Ma così? Questo non lo sai. Mi sapevo frate. È sempre... Uno dei due De Filippo. Eh! Il faiatello. Il nome non lo ricordo. Eh! No, te la do buona questa. Mettila la. Peppino De Filippo. Peppino, Peppino. Antonio è... Totò è Peppino, infatti. Di Armando Maratuno. Vabbè. Va beh. Questa sarebbe resina. non ti conosce Mau, mozza tu? ok Michael Jordan questo stava ancora nel Chicago Bus e questo è il console la roba aspetta, aspetta, si chiama non lo conosco non lo conosco questo è Michael Jackson versione versione riconoscibile, che se le sapete? si la conosco e lo immagino oggi ragazzi io sapevo che pariava con Dario lo sapevo si dice la signora in giallo ovviamente non è vero e cosa? Rita Levi monta al cibo bravo e chi sta a mattare la faccia i cazzi Giorgio Napolitano buona fortuna questo se non me lo azzecchi dopo ti mangi le mani con tutte le braccia infatti non lo azzeccherò mai è bello capello molto selvaggio guardalo bene guardalo bene uno sguardo molto penetrante no 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 sta dietro l'angolo stava dietro l'angolo Pino Daniele wow eh ma da giù eh boh stavo Pino Daniele non l'avevo mai riconosciuto da giù si si questo è scozzese lui scozzese comunque non mi dice niente Sean Connery wow da vecchio l'avrei cioè qua è ancora senza barba dei film che mi sembrava e questo è visto stravisto però non viene no ok Mick Jagger però sta azzeccando tutti i più importanti Matt Maguire vabbè quelli obvi cioè almeno quelli oddio questa cicatrice c'era dicendo tatuaggio teneva pure la sbastica molte volte eh altro visto e stravisto ma Charles Manson e questo è Armstrong proprio che sono un astronaut nome? il nome? quello era Lewis questo è? Neil Neil Armstrong si non lo sai questo vai a nanzo che non lo sai non lo sai non lo sai eric clepton questo puoi sapere visto visto e e McSarbruch quello pure in McSarbruch è Coso è morto puro come si chiama? non è morto sta andando bene ragione è Coso e l'altro? Microsoft e Bill Gates ok 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 questo è quello degli U2 eh però sai che non mi ricordo il nome però c'è cantante degli U2 eh? cantante degli U2 scelto allora ho perso Steven Spielberg Spielberg ah ma lo sai che ho mai visto la foto di Spielberg cioè mai c'ha mai visto il secondo bagno Simo no non lo so di qua qua a fianco c'era una mila si ho tagliato la foto qua a fianco c'era una mila Steve Jobs da giugno? questo è Steve Jobs ah eh questo è una tua si è un bagno una compagnia bella però non veramente non non mi ricordo il nome tu lo sai? come? chi? no non mi viene in mente il nome amico Fidel ah Fidel Castro foto iconica ma io vado male perché magari li conosco pure però mi so associare di nuovo vai avanti Jim Morrison Jim Morrison chi sa pure di sapere? lo sapevo Jim Morrison è il ho fatto profilo mi sfuggono sempre lascio là signor Rocky guarda mi stava venendo Madonna? Madonna ok ok scommetto che da giugno era nuovo è sempre uguale non lo so eri sono fuori eri sono fuori questo lo sai no? ecco sono là è sì sì è come massimo 3 questo lo sai però l'ho visto questo è la magica l'ho visto ma non mi viene in mente ultimo Elvis Piresi ok ok va bene una mezza 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 questo io c'è il santino sul comodino eh immagino una mezza una mezza chi è? Jimi Hendrix Jimi Hendrix questi due qua? eh chi sa è John John il cognome John Elton John ok grazie è questo? è lui porca di quella miseria non mi sta avendo pobettino pobettino robert non breve no robinson no come cacchi si chiama? aiuto dalla casa ti prego robin williams robin basta dimmi robin ok saluta ciao grazie per la figura di merda addio segnalo